Mi chiamo Alessandro Palombo, sono insieme a mio padre e mia sorella, proprietario della fattoria di Luiano, che si trova a San Casciano, Val di Pesa. Questo è il vino della famiglia, il nostro vino del pranzo della domenica. È un vino che ho scelto di portare con me perché è il vino che per primo ho conosciuto quando le domeniche mattina a pranzo veniva a trovarci in città a Firenze mio nonno Alberto, che era tutto orgoglioso di portarci le nuove uscite della sua riserva. La riserva era proprio il nostro vino di famiglia, il vino del pranzo della domenica. E mi ricordo sempre questa immagine del nonno perfezionista che chiedeva l'acqua a temperatura ambiente per stemperare le bottiglie e riportare la temperatura per essere godute nel migliore dei modi. E da allora, sempre passando il testimone a mio padre e successivamente a me, abbiamo sempre avuto un occhio di amore e di riguardo per questo vino. La mia vendemmia preferita è la 2015, perché è una vendemmia che mi ha dato tante soddisfazioni e era una vendemmia che ho coordinato dal reparto maternità dove stava nascendo la mia seconda figlia e una vendemmia che ho veramente assaporato in tutto e per tutto e che ricordo con tanto piacere.